guardate come saltano questi risotti queste mani esperte di queste cuoche guardate ragazzi che meraviglia qua in questa cucina vai e le cameriere aspettano vai perfetto si bene grazie ho rotto la cameriera 36 no 32 32 33 34 35 36 37 37 38 39 39 40 40 41 42 42